Continua la favola del Vico Equense che eliminando i Lombardi del Renate in semifinale con un doppio 1-0 vede avvicinarsi sempre più un ripescaggio in seconda divisione, che ad inizio stagione era solo un sogno. Gli azzurro oro del presidente Savarese sono infatti riusciti dal vittorioso campionato di eccellenza dello scorso anno ed erano partiti in questa stagione per disputare un campionato tranquillo, raggiungendo prima possibile la salvezza. A fine anno invece è arrivato il secondo posto nel Gironi con un rendimento casalingo dal loro compressore, confermato anche nella fase di spareggi. Gli uomini guidati dal giovane mister Giovanni Ferraro, ex difensore di terza serie negli anni 90, giocano un calcio molto sbarazzino ed offensivo, con un 3-4-3 ormai oliato alla perfezione, la cui forza nasce dall'amalgam di calciatori che nella tranquillità dell'ambiente napoletano stanno dando il meglio della loro carriera. E' il caso soprattutto di Alfonso Trapani, mezzala dalle micitarie incursioni in area e dal piede caldissimo su punizione e calci di rigore. In porta viene schierato uno tra Izzo e Munao, alternati a seconda degli altri under presenti in campo, con la difesa composta da Giorgio Scognamiglio, esperto centrale ex Savoia, Salvatore V, già da qualche anno a Vighequense, e dall'altrettanto esperto Leonardo Gargiulo, in sostituzione dell'ex Sorrento Chiariello, che deve ancora scontare due giornate di squalifica. A centrocampo l'elemento di Spicca è già citato Alfonso Trapani, con Violante ad affiancarlo al centro e radedicarsi al lavoro di copertura. Sugli esterni spazio per l'eclettico argentino Burgos, elemento tutta corsa ma dai piedi e buoni, così come l'alto esterno Alfonso Lorreto, anche gli tra gli artefici della promozione dello scorso torneo, è assente nelle ultime partite caso infortunio, ma con tutta probabilità recuperato per la finale di domenica. Gli cederà probabilmente il posto del giovane Armellino, che si è ben comportato quando è stato richiamato in caso, a volte schierato anche nel tridente offensivo. In attacco grande con il debutto è dato quest'anno l'89 Alessandro Lupico, cresciuto nel Sorrento e dal primo anno tra i grandi, e subito capace di mettere a segno 14 con l'incampionato. A sui fianchi agiscono l'esperto Donnarumma, è donato in classe 91 Conte e l'esperto Michele Solimene, unico calciatore di nome di Chiazzurro Oro, con un discreto passato in città da Juve Stabia e Sorrento, giunto alla parabola discendente di una carriera comunque ricca di soddisfazioni. Squadra quindi organizzatissima e frequenze, dal grande collettivo e dalle poche individualità, pronta domenica all'ultimo sforzo di una stagione quasi trionfale.